Le colline di Conegliano-Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, sono ora patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le Dolomiti è la casa di migliaia di viticoltori che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al loro lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico di grande e sorprendente bellezza. Sono tre le caratteristiche di valore universale da proteggere e valorizzare. La morfologia delle colline, che disposte in coordonate da est a ovest, formano una serie di rilievi irti e scoscesi, intervallati da piccole valli parallele tra loro. L'uomo ha saputo nei secoli adattarsi alle loro peculiarità, modellando le ripide dipendenze e perfezionando le tecniche agricole. I ciglioni, particolari terrazzamenti dove per sostegno non si usano pietre, ma terra ed erba, rispettando il paesaggio e rendendo più solidi i versanti. Lo sviluppo di un paesaggio agrario a mosaico, nel quale tanti piccoli appezzamenti di vigneto appartenenti alle diverse famiglie sono intervallati da boschi e prati, che funzionano come efficace rete ecologica. Colline di Conegliano-Valdobbiadene, un paesaggio da vivere, un patrimonio di tutti. Grazie. Grazie. Grazie.